Il valore è tutto il fatto che noi non li conosciamo. 13 parlamentari, 40 tappe in tutta la regione, 6 weekend di eventi e agora per confrontarsi con i cittadini e per costruire insieme un'altra Europa. Prende il via il campagna tour dei portavoce del Movimento 5 Stelle, che gireranno tutta la regione con i candidati alle prossime elezioni europee. Sentiamo il vicepresidente alla Camera Luigi Di Maio. Il primo punto cardine è portare un po' di normalità in Parlamento europeo. In questa regione ha partorito De Mita, Mastella, Cozzolino che è quello dei 5 euro per votare alle primarie del PD a Napoli. Io credo che il primo obiettivo di una forza politica come la nostra sia portare un po' di normalità in un contesto politico anormale. Secondo, spiegare ai cittadini con queste 40 tappe che faremo di questo tour, spiegheremo come e cosa vogliamo portare in Europa. Noi in sostanza andiamo in Europa a portare un ultimatum. O l'Europa cambia e smette di essere quella delle banche, diventa un'Europa che dà più opportunità di lavoro ai cittadini europei, in particolare a quelli italiani, e dà più opportunità per le nostre imprese, oppure è un'Europa che non serve a niente, è un'Europa da cui ce ne dovremo andare. Il tour è stato presentato presso il Caffè Beverello a poche ore dall'imbarco dei deputati, senatori e candidati per Procida, prima tappa di un viaggio attraverso la regione che si concluderà a Napoli il 23 maggio. Ai nostri microfoni il deputato Roberto Fico e la candidata campana alle europee Valeria Ciarambino. Il punto centrale è che l'Europa così com'è deve cambiare. E come può cambiare? Mettendo all'interno del Parlamento dei cittadini, che non hanno nessun tipo di ideologia o di riferimento lobbistico. Noi dobbiamo andare a ricontrattare il debito, dobbiamo annullare definitivamente il fiscal compact, ma soprattutto non possiamo dare credibilità alle persone che oggi vanno in Europa, che sono le stesse persone che hanno firmato il fiscal compact. Dobbiamo bloccarle, dobbiamo mandare gente libera. Il Movimento 5 Stelle anzitutto porta una nuova visione dell'Europa. È una visione dell'Europa che deve tornare a essere una comunità. Per cui noi andiamo in Europa perché l'Europa possa tornare ad essere una risorsa per la nostra terra, anche per la nostra terra campana, per tutto il sud Italia, e perché soprattutto possa tornare ad essere una comunità di popoli. Quindi non c'è più solo il criterio finanziario e economico che deve regolare i rapporti tra i popoli, ma anche restituire dignità ai popoli.